L'Abruzzo ancora le prese con il maltempo tra neve e vento forte che ha spazzato la costa procurando alcuni danni. All'Aquila la minima è andata anche oltre i meno 5 gradi e l'insidia, viste le basse temperature, è rappresentata dal ghiaccio formatosi sull'asfalto che ha provocato rallentamenti e code alla circolazione. Violente raffiche di vento a Pescara in tutta la provincia e neve nell'entroterra, scuole chiuse in alcuni comuni della provincia di Pescara dove a causa del forte vento è stato necessario interdire l'accesso alla riserva d'Annunziana, al parco della caserma Cocco e al ponte del mare per questioni di sicurezza relative allo stato degli alberi a seguito del vento che colpisce il capoluogo. Non ci sono problemi particolari legati al ghiaccio sulle strade pescaresi, al momento la società attiva sta agendo sulla città con la polizia municipale, in particolare sulla riviera dove molti cassonetti sono stati spostati dal vento. A Teramo capoluogo dove ha cominciato a nevicare ieri in serata, interruzione dell'attività didattica ad eccezione degli asili nido comunali, chiuse invece tutte le scuole a Campli, anche in questo caso per neve, stesso provvedimento preso a Silvia a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche e a Penne dove resterà chiuso anche l'asilo comunale. Strade ghiacciate nel Teramano, soprattutto nelle zone interne, già danneggiate dalle precedenti piogge, un albero è caduto in pieno centro danneggiando pesantemente un'auto in sosta. Nelle prossime ore saranno ancora possibili episodi nevosi fino in pianura anche sulla nostra regione, ma la caratteristica principale di questo peggioramento sarà il vento che continuerà a soffiare con forti raffiche lungo tutto il versante adriatico con violente mareggiate. Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto a partire da stasera e nel corso della giornata di domani.